Giuliano Peparini farà concorrenza a Maria De Filippi, ecco come. Giuliano Peparini è stato per molti anni il coreografo di Amici di Maria De Filippi. A lui si devono tutte le coreografie che da sempre hanno appassionato i telespettatori, e sono entrate nella storia del programma. Da un po' di tempo Peparini ha lasciato il suo ruolo e ora, secondo quanto sta trapelando, ora sarebbe pronto a fare concorrenza alla Maria De Filippi. Giuliano Peparini, la sua vita professionale dopo l'addio a Maria De Filippi. Giuliano Peparini ha deciso, ormai diversi anni fa, di allontanarsi da Maria De Filippi e il talent show di Amici. Non si è trattato di uno scontro e non ci sono stati problemi tra i due, ma Peparini ha avvertito l'esigenza di proseguire la sua carriera altrove. Il suo ruolo di coreografo, quindi, è stato affidato ad altri e la strada di Peparini si è quindi separata da quella di Maria. Attualmente, Peparini si sta occupando di fare il coreografo a teatro. Come ha raccontato lui stesso nel corso di un'intervista a Rai News 24, da poco si è conclusa la sua ultima fatica teatrale Ulisse, l'ultima odissea presso il teatro di Siracusa. Anche nell'ultimo periodo si è dedicato al rifacimento di alcuni classici, per esempio Romeo e Giulietta oppure lo schiaccianoce. Quindi al momento proseguono le sue collaborazioni con alcuni teatri e non solo. Infatti, Peparini ha dato luogo ad un suo progetto che sta facendo molto chiacchierare perché potrebbe, in un certo senso, andare a fare concorrenza ad Amici di Maria De Filippi. Giuliano ha aperto a Roma un'academy sullo stile di Saranno Famosi, in cui giovani talentuosi potranno dimostrare le loro capacità nelle varie arti, e allo stesso tempo imparare. Una somiglianza molto spiccata con Amici. Giuliano Peparini farà concorrenza a Maria De Filippi con la sua nuova Academy. A Rai News, Giuliano Peparini ha spiegato che questa scuola accoglierà ragazzi talentuosi provenienti da tutte le discipline. In questo modo potranno formarsi maggiormente e avranno anche modo di capire meglio cosa fare, e quale sia esattamente la loro strada. Peparini ha precisato che molte volte, soprattutto quando si è giovani, si intraprende una strada ma poi ci si rende conto di essere più portati per un'altra cosa. Proprio per questo c'è bisogno di una guida e l'Academy di Peparini ha proprio questo obiettivo. Lo stesso coreografo ha sottolineato che dovrà essere una scuola in stile Saranno Famosi, dove i giovani metteranno alla prova il loro talento. La somiglianza di questo progetto con Amici è innegabile ed in tanti stanno facendo notare che in questo modo Giuliano Peparini potrebbe fare concorrenza ad Amici. Infatti, tanti talenti interessati al programma di Maria De Filippi magari potrebbero scegliere, adesso, l'Academy del coreografo. Un aspetto che non è passato inosservato al pubblico, soprattutto dei social, che ora si chiede se Amici attirerà i talenti tanto quanto prima. Voi che cosa ne pensate? I giovani cantanti e ballerini continueranno a scegliere il talent di Maria De Filippi oppure no? A voi i commenti! Grazie per la visione!